Non si dimette, per ora, ma la prospettiva non è dettuta avulsa dal contesto. Dopo aver attaccato il suo ministro, il sindaco di Salerno scrive al premier Letta e lo fa da viceministro all'infrastruttore. Gli dà del tu, ma i toni non sono propriamente amichevoli. Come ti è noto, si legge, a mesi dalla mia nomina non è stata ancora risolta la questione delle responsabilità operative da attribuire alla mia persona, secondo quanto stabilito dalla legge. Il riferimento chiaro di De Luca è alla mancata assegnazione delle deleghe con le quali operare da viceministro, circostanza che da una parte consente di non incorrere nei termini di incompatibilità del doppio incarico, ma dall'altra, di fatto, impedisce al sindaco viceministro di incidere come vorrebbe nell'azione di governo. Ho atteso per mesi, scrive ancora De Luca, per senso di responsabilità in relazione alla situazione politica, continuando a svolgere un intenso lavoro di raccordo istituzionale per agevolare lo sblocco di infrastrutture rilevanti per cittadini, territorio, imprese e occupazione. Oggi, continua, considero il protrarsi di questa situazione grave sia per la funzionalità del Ministero, sia sul piano dei rapporti tra le forze politiche che partecipano alla coalizione di governo. Per questo motivo, conclude De Luca, ti invito ad intervenire e a decidere. In relazione all'esito di questa mia lettera, avrò a mia volta il dovere di motivare all'opinione pubblica la sostanza di questa vicenda e le mie decisioni.